Dopo un anno di cassa integrazione il silenzio più assoluto è questa la realtà del cementificio danesi qui a Lugagnano in provincia di Piacenza. Gli operai chiedono risposte e i titolari si negano. Il dottore è all'estero e non tornerà prima del 20 luglio e così i lavoratori dell'azienda fornaci laterizi danesi di Lugagnano hanno deciso venerdì scorso di scioperare eppure nonostante le braccia incrociate dalla dirigenza dello stabilimento è scaturito un assordante silenzio. Filca Cisla e Fillea CGL speravano di poter dare risposte alle maestranze in merito alla possibilità di una breve ripresa della produzione a settembre del 2014 il che implicava una seria manutenzione in luglio e in agosto per poter poi ripartire ma a causa del lungo e imprevisto viaggio all'estero del responsabile aziendale hanno intuito che a settembre non si ripartirà di certo. Lo stabilimento di Lugagnano della fornaci laterizi danesi è sospeso a zero ore d'agosto dell'anno scorso quindi ha terminato un periodo di cassa, l'ultimo periodo di cassa integrazione ordinaria con la fine di marzo di quest'anno dopodiché l'azienda ha chiesto un periodo di un anno di cassa integrazione straordinaria per crisi e da allora abbiamo fatto un solo incontro in provincia ai primi di maggio in cui chiedevamo insieme alle istituzioni quali fossero le intenzioni per lo stabilimento di Lugagnano tipo che ne so due o tre mesi di ripresa durante l'anno anche perché in altri stabilimenti dello stesso gruppo stanno comunque lavorando seppur a singhiozzo. Considerato che a marzo 2015 terminerà la cassa integrazione straordinaria e si apriranno i drammatici scenari della disoccupazione i sindacati chiedono alla dirigenza danesi un riscontro sulla situazione. Al momento lo stabilimento è del tutto fermo, forti le preoccupazioni relative all'indotto sono state sollevate anche dall'amministrazione locale di Lugagnano e dai rappresentanti di diversi paesi della vallata. Mi era triste dire che lo sciopero serviva veramente e che i lavoratori avevano tutte le buone ragioni per gridare in un qualche modo, denunciare il fatto che siano stati trascurati in tutti questi mesi e che l'azienda con le organizzazioni sindacali e con le autorità e le istituzioni non si sia ancora fatta sentire per rendere partecipi un po' tutti di quello che è un piano eventualmente industriale, quello che vuole essere il futuro per lo stabilimento di Lugagnano.